Radio Bruno, in diretta dal Festival di Sanremo Come sei? Bene, grazie È la tua prima volta a Sanremo? È la tua prima volta a Sanremo? È sì, non ho mai stato qui prima, ma è bellissimo Non c'è mai stata, ma è bellissimo Hai ascoltato di Sanremo prima? Ho fatto, quando ho inizio a venire qui, tutti mi hanno detto, specialmente le persone con cui ho lavorato, mi hanno detto che è un festival eccociato che magari un giorno ci saranno, ma è un festival molto importante, prestigioso e rispettivo Anche i miei amici italiani in L.A. quando ho detto che ero spiegato Sanremo, erano tipo Oh mio Dio, davvero? Sì, ho detto Allora, le ho chiesto, avevi mai sentito di Sanremo prima di questo? Allora, il suo entourage, insomma, anche lo staff italiano le aveva avvisata dell'importanza di questa manifestazione musicale Ma anche i suoi amici a Los Angeles quando lei ha detto, guardate io vado a Sanremo Allora, ma veramente? Sì, ho detto, e questi sono miei amici che mi hanno detto, vado a Sanremo E lei ha risposto, ma sì, vado a Sanremo Sì, non vado a Sanremo Ok Ok Quando tu hai scritto queste due canzoni Potevi immaginare una volta che stavi scrivendo queste canzoni di tutto quello che sta accadendo? Non avevo nessuna idea, anche perché è molto divertente, una delle parti interessante è che ho scritto Lost on New Allora, ho scritto molto più tardi Non molto più tardi, ma ho scritto questo, come... Ho scritto Lost on New durante il mio partito E ho scritto altre persone, come, 8 mesi dopo Perché ho bisogno di sentire, sai? Allora, ha scritto Lost on New quando proprio si è separata Ha finito una storia e dopo sei mesi invece ha scritto Other people Sì È corretto? Dopo sei mesi? No Sì, dopo un altro anno o due Forse un altro anno o due Un po' di più Però ho suonato Lost on New per il mio label Però ha suonato comunque Lost on New per la sua, insomma, etichetta principale Allora, l'hanno, insomma, scritturata, ha firmato il contratto dopo aver sentito questa canzone Non sapevo che Lost on New era una buona canzone per me, ma ho pensato che non è una grande canzone Eh, io sapevo che era una bellissima canzone, però non pensavo così È chiaro che lei la scrive, quindi per lei è bellissima, non pensavo però tutto ciò E poi ho fatto un altro record deal, e poi tutto questo è successo, e era un po' divertente E dopo naturalmente ha dovuto, insomma, scrivere canzoni per il suo album e tutto questo è successo Perchè la tua musica, qui in Europa, lo amiamo molto Perchè perché i tuoi parenti venivano dall'Italia e dall'Italia Insomma, in Europa ti adoriamo tutti, forse per il tuo legame e le tue origini dei tuoi nonni e dei tuoi parenti in Irlanda e in Italia? Eh, forse Forse Allora, anche negli Stati Uniti ci sono tantissimi italoamericani e dicono anche tu lo sai, sì, allora dai parliamoci in italiano, no, non lo so parlare No, ma sono molto italiana Però è molto italiana In tua attitudine, nel tuo atteggiamento, sei molto italiana? Cosa ti senti nei tuoi sentimenti? Penso che, sai, mi sento molto italiana quando canto Quando canta si sente molto italiana È la più italiana che mai sento Potremmo perché ti fai un grande fischio Eh, sì Posso farlo, sai? Non posso farlo questo fischio Puoi praticare, puoi praticare da solo Quando nessuno si guarda Eh, con il mirro, con lo specchio Non ho bisogno dello specchio Non ho bisogno dello specchio Alone Da sola Alone You should probably be alone Ok, dovrei farlo Ma questo suono mi ricorda il grande maestro Ennio Morricone Oh, wow Ci ricorda questo suono, però, Ennio Morricone È un onore, sì È un onore per lei È un onore per lei Ho lavorato con il suo figlio una volta E il ragazzo con me ha detto Oh, è un grande fischio E poi ho chiesto un po' per lui E lui ha detto Eh È molto buono Ma non è così buono come il mio padre Allora, ho incontrato Ennio Morricone Chi era con lei ha detto Guarda, lui è il più grande fischio Cioè, colui che fa il fischio più grande Lei ha fischiato davanti a Ennio Morricone E lui ha detto Beh, non è male Oh, è so funny, davvero È molto molto divertente Allora, sarai sul palco di Sanremo domani sera Sarai sul palco di Sanremo domani sera Sì Sì Una canzone, due canzoni Quante canzoni? No, vediamo Credo, magari due Forse due E poi, in Italia Un tour 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 Ma sono soldati Insomma, farò un live Ma è tutto soldati ragazzi E no Non so cosa dire Non so cosa dire Non so cosa dire però È proprio Chiamami che magari riesco a farti entrare O magari puoi farlo come noi in Italia Puoi fare come noi in Italia Lo so Lo so Lo so Non so È tutto soldati Quindi è un ottimo successo Grazie Abbiamo dato il 3 luglio a Roma soldati Il 4 di luglio a Cattolica soldati A Lucca l'11 luglio Poi siamo a Torino il 25 luglio A Brescia il 26 soldati E anche a Nonantola Ah, diciamo Troviamo il microfono Come Obama ha lasciato il microfono Quindi grazie 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 Radio Bruno In diretta dal Festival di Sanremo In collaborazione con Grissin Bon Silvestri e Taddei Abbigliamento maschile Biper Banca Campani Group Mondo Convenienza Modena Giochi E il Rosanna Alpi La moda che si distingue